Venerdì 27 settembre si terrà presso il Cinema Plaza a Napoli la finalissima del festival cinematografico Ciaxi Gita, giunto quest'anno all'ottava edizione. Nato dalla collaborazione fra Francesco Cairone della Promogite e Gianni Petrizzo della Film Studio, Ciaxi Gita è un festival che punta ad affermarsi ancora di più a livello nazionale tramite la coniugazione fra turismo e attività cinematografica grazie ai campi scuola dedicati al cinema e didattica e ad un concorso esteso in tutta Italia. Ogni anno questo concorso ottiene sempre più risonanza a livello italiano e le richieste delle scuole per partecipare aumentano ad ogni edizione. Sono numerosi gli istituti affezionati che ripetono ogni anno la gita nel Cilento per partecipare al concorso ma anche per rivivere le bellezze del nostro territorio. Quindi il concorso ha anche una funzione di promozione turistica per il Cilento e non si limita al singolo scopo cinematografico. Ciaxi Gita è un festival diviso in tre fasi ovvero la realizzazione della sceneggiatura, le riprese ambientate nel Cilento e la proiezione di tutti i corti prodotti nel 2019. Gli istituti scolastici che hanno partecipato a questa ottava edizione del concorso sono il liceo scientifico Italo Calvino di Opera Milano, IIS La Grangea di Vercelli, l'istituto comprensivo Fratelli Trillini di Osimo, l'istituto comprensivo Tre Portici Don Peppe Diana di Portici, l'istituto comprensivo Albert Einstein di Reggio Emilia, l'istituto comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano in provincia di Napoli, il liceo scientifico statale Alberti di Minturno, l'istituto comprensivo Gemito di Anacapri in provincia di Napoli, l'istituto comprensivo Costanzo di Siracusa, l'istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa, l'istituto comprensivo Viale di Liguria di Rozzano Milano e l'istituto comprensivo statale di Pero Milano. Invece per la sezione del Festival ai Corti dei Licunti partecipano l'istituto comprensivo statale Giuseppe Montezemolo di Roma, l'istituto omnicomprensivo Fusco di Castelforte, Minturno di Castelforte e l'istituto comprensivo Matteo della Corte di Pompei in provincia di Napoli. Il 27 settembre dunque si svolgerà la premiazione finale dei Corti in concorso a Napoli presso il Cinema Plaza.